ok ragazzi non volevo arrivare a questo ma ci siamo arrivati alla fine ok smonterò il motore della mia bxl 8 questo che sta sotto il radiatore e lo monto su questo bidone siccome ho comprato un nuovo motore per questa di un buggy questo è un 2000 kv ho preso un 4000 kv con la centralina adesso prenderò centralina motore e radiatore e lo monto sopra questo monster track vediamo come va a finire che ragazzi il motore smontato con tutto il radiatore adesso devo andare la puleggia adattatore ecco qua la esc smontato il motore in arrivo il nuovo che continuiamo ok puleggia e motore rimosso dal monster track adesso rimontiamo questo bestione e vediamo come distruggerò tutto anche ragazzi il motore radiatore montato adesso metto a posto la esc la ricevente la batteria facciamo subito un test la mia bxl 8 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 la mia bxl 9 la mia bxl 9 la mia bxl 9 la mia bxl 8 Grazie a tutti.